Grazie. Grazie. Eccoci qua. Allora continuiamo i nostri dialoghi e adesso dopo aver visto le storie della Bibbia e le storie nell'arte continuiamo con le storie di amicizia nello sport. Gregario a chi dice questo nostro prossimo incontro? Beh, lo sport non è solo competizione dove uno vince e uno perde. E tutti noi ricordiamo, voglio dire, le grandi sfide tra Coppi e Bartali. Certamente erano competitivi, certamente erano rivali, però la cosa che ci è rimasta di più nella memoria è stato quello scambio della borraccia. Ecco, questo scambio della borraccia lungo la salita, ecco, ci si misura sempre alla pari, non lasciando assetati o affamati alcuni a scapito di altri, così nello sport e così nella vita quotidiana. Ecco, ne parliamo con i nostri due ospiti che sono Massimo Ghirotto, ex ciclista professionista e commentatore Radio Rai. e Silvio Martinello, campione olimpico su pista, commentatore Radio Rai. Benvenuti, benvenuti al Festival Biblico. Modera l'incontro il nostro, Thomas Paparella, responsabile della comunicazione del Festival Biblico di Rovigo. Non esageriamo con il nostro. E tu sei il nostro, è anche di tutti, nostro e loro, nostro e loro. Bene, grazie e buon festival. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima appunto dicevano chi meglio di Giuseppe è stato Gregari. In realtà qui non abbiamo soltanto, sono stati anche Gregari, però hanno soprattutto fatto tantissime vittorie. Allora, grazie di essere qui intanto e prima di cominciare volevo salutare il presidente del Rotary Rovigo Maurizio Zerilli. Eccolo qua, un applauso che sostiene questo evento anche perché Rotary sostiene gli eventi sportivi. Allora, come detto, qui abbiamo non soltanto, sì, sono stati anche Gregari, ma due campioni veri e propri perché da una parte un ex ciclista professionista, maglia rosa al Giro d'Italia, ma soprattutto campione mondiale e olimpico su pista con lo storico compagno Matteo Villa, dimmi se sbaglio Silvio. Marco. Marco Villa, scusa. Magari si offende poi. Silvio Martinello. Un applauso a Silvio Martinello. Buonasera, grazie. Dall'altra parte invece possiamo definirlo un nostro concittadino perché è cresciuto nel velo Club Mantovani, quindi è praticamente rodigino e poi abita proprio qui a dieci minuti. È cresciuto appunto ciclisticamente qui in carriera. È uno dei pochi, centinaio, sotto un centinaio, no? Che ha vinto almeno una tappa nelle tre più grandi corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta. È stato compagno di squadra di Tant, oggi, credo oggi, è il compleanno di Moser. Il tuo primo capitano è stato Francesco Moser. Poi hai avuto Dev Lemming come capitano, Roche, Visentini, Chiappucci. Buon te. Buon te, qui ce ne sarebbero tanti. E non dimentichiamo anche che ha corso nel suo ultimo anno in carriera con un giovanissimo Marco Pantani e abbiamo qui con noi Massimo Ghirotto. Grazie, buonasera. Allora, questo video è dedicato a voi, lo commentiamo insieme. Adesso lo facciamo partire. Non sarebbe da commentare ma per ovvi motivi che vi ho spiegato fuori dobbiamo un po' commentarlo. quando la regia è pronta, prima di cominciare con l'intervista. Anche perché Massimo mi devi aiutare su alcune vittorie, perché non le ho scelte tutte, ma una parte buona. Te la ricordi? Forse non si sente il microfono di Massimo. La torna di prima era il Club de France a Ginevra. Questa invece è la tappa di Bra. Siamo arrivati in cinque in volata e ho battuto Sove insieme che era insieme al corridore più pericolore. Poi un po' di astuzia, un po' di senso tattico giro. Noi sono giocata bella. Qui invece è vittoria importante questa ad Europa. Questa, sì, è una vittoria d'Europa. Siamo arrivati in salita ovviamente e siamo rimasti in giro con Marco Giovannetti che era il terzo vittore che ha giunto l'altra volta la prima d'Italia e poi nel finale per la prima d'Italia. Eccoci. Invece qui passiamo a Massimo, a Silvio. Questa è una delle vittorie al giro, Silvio. Eh sì, siamo molto vicini. Questa è la vittoria di Atene, dove hai preso la maggiore d'Italia. Ecco qui, era la prima tappa del Zulio d'Italia 96. Esatto. Momenti dopo la vittoria. Qui invece sono alcuni momenti con il tuo compagno. Eh, qui è, questo è il primo mondiale dell'americana che abbiamo vinto a Bogotà nel 95 con Marco Villa. E questa invece, questa è la medaglia. Qui ci vorrebbe un applauso perché abbiamo una medaglia d'oro. Una medaglia d'oro d'Atlanta, sì. Quindi è la corsa a punti individuale. Eccolo qua. Sono passati 25 anni. 25 anni, sì. Il prossimo 28 luglio sono 25 anni. Qualche giorno è passato. Un bel applauso a Silvio Martinello e a Massimo Ghirotto. Grazie. Allora, c'è un... Ecco, se si può alzare la fine. Qui c'era il saluto, saluto famoso, ad Maiora. Se non sapete, Massimo ormai da tanti anni in radio, Silvio da qualche anno, ma lo è stato per anni in TV, commentatori tecnici del Giro d'Italia. Poi alla sera sui social mostravano appunto le loro pagelle e vanno fortissimo, vi seguivo tutte le sere anch'io. E concludeva Massimo sempre con Ad Maiora, quindi anche stasera se vorrai. Certo, certo, è uno slogan del Giro. Volevo dire prima, 25 anni? Eh sì. Ecco, quindi il venticinquesimo pagherai qualcosa agli amici. Sempre in mente mangiare le cose. No, vale la pena. Abbiamo parlato di nutrizione, quindi... Volentieri, volentieri. Allora, quando io ho chiamato Massimo, con cui ho, diciamo, un rapporto di radio a livello locale, quando è disponibile lo chiamo per fare qualche commento al Giro per Radio Colve, lui mi ha detto, guarda, se hai questo evento che riguarda l'amicizia nello sport, Silvio, perché Silvio è un amico veramente. Allora io entro subito, la risposta la date voi, chi uno chi l'altro. Massimo una volta mi ha già risposto. Da dove nasce questa vostra grande amicizia? Perché è particolare? Perché non avete mai corso nella stessa squadra a livello professionistico, sbaglio? No, non abbiamo mai corso nella stessa squadra, ma insomma abbiamo sempre... Massimo è passato professionista qualche anno prima di me. Nell'83. Nell'83, io sono passato nell'86 e abbiamo condiviso qualche stagione anche nella categoria dilettantistica, che allora esisteva la categoria appunto dei dilettanti, e è nata spontaneamente questa amicizia, nel senso che tra colleghi ci si allenava sulle stesse strade, indipendentemente dagli impegni ognuno con la propria formazione di club. Ed è nata spontaneamente, poi l'amicizia si sviluppa quando oltre alla conoscenza trovi dei punti di intesa. Io ho sempre creduto molto nel lavoro, anche nello sport, anche se è evidente che ci vuole una base di talento, di qualità, ma poi il talento, la qualità ti può aiutare certamente fino a un certo punto. Poi è il lavoro che fa la differenza. Io ho sempre visto in massimo un esempio da seguire, perché lui è sempre stato un gran lavoratore, lo è ancora adesso, ma anche quando faceva il professionista, quando faceva il corridore professionista, è sempre stato un punto di riferimento. Un punto di riferimento perché è un professionista molto serio, che si preparava con molta attenzione, facendo attenzione ai dettagli, appunto, che spesso possono fare la differenza. E siccome io ho questa mentalità anch'io, l'ho sempre visto come un riferimento. e quindi cercavo di carpire anche le cose più segrete, le cose più nascoste, gli aspetti, diciamo così, appunto piccoli dettagli che poi potessero fare la differenza. E devo dire che con Massimo ho potuto imparare moltissimo anche sul come allenarmi, sul come prepararmi. Nel 2019 avevo appena interrotto la mia collaborazione con Rai Sport e fui chiamato dalla redazione appunto di Radio 1 Rai alla quale Massimo aveva fatto il mio nome perché lui quel Giro d'Italia del 2019 non lo fece per dei problemi fisici. E appunto mi chiamarono e essendo già uno abbastanza pronto, insomma, avendo una certa esperienza non di radio ma di televisione, insomma, però ho cercato di adattarmi in fretta, ecco, ora ci siamo ritrovati a convivere diversi momenti, insomma, soprattutto al Giro d'Italia. Ieri abbiamo terminato un altro momento insieme all'Adriatica Ionica Race e insomma questa amicizia è rimasta. Quando possiamo continuiamo a coltivarla, ecco, però è nata in questo modo anche se non abbiamo mai appunto gareggiato né da dilettanti né da professionisti nella stessa formazione. Cosa puoi aggiungere Massimo? Beh, Silvio guarda, è un amico fratello proprio. Il fatto che io sia passato tre anni prima di lui vuol dire che io avevo già, come dire, già tre anni di esperienza e lui era un dilettante affermato e l'amicizia è nata proprio in quei momenti, cioè quando giornalmente ci trovavamo nei vari percorsi dei Colli Ugani e quindi si passava qualche ora, diverse ore insieme. Non era neanche tanto in corsa la frequentazione perché in corsa poi alla fine uno ha il suo ruolo e devi stare attento un po' insomma alle consegne che ti ha fatto il direttore sportivo, ai tuoi capitani. Sì, c'erano anche momenti un po' di discussione, di confronto ma la cosa bella dell'amicizia è nata proprio in quei momenti quando ci trovavamo tutte o quasi tutte le mattine e si faceva ore e ore di allenamento. D'altronde Silvio, voglio dire, ha fatto presto a imparare, anzi lui ha detto prima che cercava di capire un po' i miei segreti io invece tentavo di nasconderli e lui era più avanti e me li giocava perché sai, un po' di mestiere ci vuole nella vita. Anche se poi avevate due ruoli un po' diversi perché uno sprinter e uno, come possiamo definirti, un attaccante. Ma guarda, siamo stati tutti e due dei Giuseppe perché lui aveva cipollini, come capito. Per qualche anno sì, per qualche anno. Forse anche l'anno 96. Sì, 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 infatti quella volata avrebbe dovuto farla lui ma poi non stava bene quindi ho avuto il via libera anzi non tanto il via libera cioè semplicemente lui non la faceva poi quando ha visto che l'ho vinta io un po' e si sono girate secondo me. Si è rifatto poi. Però sì, alla grande si è rifatto alla grande, figuriamoci. Sì, tra l'altro poi io nel 96 ero direttore sportivo in una squadra dei professionisti a Aero d'Atene e quando vinse lui per me fu una gioia perché insomma ho detto ha vinto Silvio a mettere la maglia rosa cosa che per i corridori professionisti è un sogno cioè io neanche mai ho provato a sognare a mettere la maglia rosa lui ci è riuscito. Detto questo, queste amicizie sono poi cose che ti rimangono perché abbiamo fatto anche degli ultimi dell'anno insieme tanto per dire perché quando c'è feeling quando c'è la stessa veduta il stesso modo anche ma in semplicità senza forzarla troppo sono cose che ti vengono spontanee ci siamo sempre confrontati in modo molto schietto ma mai avuto un momento di difficoltà nel rapporto è un'amicizia quella che è solida è quella che ti puoi anche dire in franchezza cose magari un po' più delicate tra virgolette ma che poi ognuno le porta dentro e rimangono al loro posto come devono essere. Ecco a proposito di amicizia nel vostro sport è cambiata come per tanti altri luoghi altri posti e altri sport com'è cambiata rispetto ai vostri tempi oggi l'amicizia nello sport questo senso di fratellanza se avete visto se notate anche da fuori questo tipo di cambiamento se c'è è un ciclismo che è cambiato è un ciclismo che è cambiato è molto più globalizzato come si dice ora quindi diciamo quel sano spirito di cameratismo che poteva esistere un tempo già per esempio gli ultimi anni di carriera professionistica per quanto mi riguarda Massimo ha smesso qualche anno prima però già alla fine anni 90 quando si entrava io ho fatto l'ultimo anno in gruppo il 2000 poi ho corso fino a febbraio 2003 ma correvo solo su pista con degli sponsor avevo un tesserino da professionista che la formazione per cui ho corso mi faceva staccare ma insomma correvo e mi gestivo autonomamente e correvo solo su pista ma già in quegli anni si intravedeva dove il ciclismo sarebbe andato cioè era molto più globalizzato un calendario molto più ampio non più quello tradizionale che iniziava a febbraio e terminava ad ottobre e ora è cambiato tutto cioè una volta una volta c'erano al mondo 300-350 professionisti e ora ce ne sono migliaia le stesse formazioni sono formazioni che molto spesso le formazioni di club si ritrovano il giorno della presentazione della squadra i 30 corridori poi durante la stagione molti di loro non si incontrano più pur appartenendo alla stessa formazione perché fanno calendari diversi contemporaneamente ci sono due o tre manifestazioni contemporaneamente quindi diventa anche più difficile consolidare delle amicizie anche se certamente esistono non ho dubbi che esistano però è un po' più complicato gli stessi allenamenti sono diventati gli allenamenti che noi abbiamo vissuto molti di questi attimi insieme come diceva Massimo anche con altri professionisti perché ce ne erano molti nella zona non solo professionisti ma anche dilettanti cioè si creava un gruppo ci si trovava in punti ben precisi e poi era facile trovarsi in una dozzina una quindicina allenarsi tutti insieme ora queste cose qua sono cambiate anche perché ognuno ha il proprio programma di lavoro il proprio schema di allenamento e quindi diventa difficile è anche abbastanza complicato condividerlo con altri perché si saluta si parte insieme ma poi io devo fare un certo tipo di lavoro io ne devo fare un altro quindi è tutto più complicato sotto questo punto di vista quindi sono amicizie che comunque esistono ma che magari fanno un po' più di fatica a consolidarsi come si è consolidata la nostra e tantissime altre insomma evidentemente perché era un ciclismo proprio diverso rispetto a quello attuale guarda un aneddoto degli anni nostri è un po' prima io quando alla sera si finiva la tappa si mangiava in compagnia c'erano tante squadre e alla sera si aspettava il momento per telefonare a casa chi è la finanziata chi è la mamma chi è la famiglia eccetera eccetera bene in quel momento era il momento di ritrovo di tutti i corridori nei vari hotel perché aspettavi il tuo turno per entrare in cabina oppure magari andavi su in camera non c'era la linea andavi giù e ti mettevi in fila non vi dico al tour de France voglio dire dove le linee bisognava fare il prefisso internazionale ecco quelli erano momenti come dire di socializzazione tra corridori quei momenti lì adesso non ci sono più per una serie di motivi perché insomma questa roba qua ci ha cambiato il mondo no? ecco per dire un piccolo esempio quanto è cambiato il ciclismo poi è cambiato in maniera proprio esponenziale io ho avuto il privilegio di essere al fianco di uno che si chiamava Felice Gimondi nel team che seguivo la Bianchi la Bianchi e quando apriva il libro delle storie lui si ricordava tutto io invece non mi ricordo quasi niente mi diceva ai nostri tempi ai nostri tempi ecco io non sono fra quelli che dici che in nostri tempi il ciclismo era migliore io questa è la mia opinione poi magari Silvio dirà la sua io dico che ognuno ha attraversato i propri tempi come i nostri bisnonni nonni genitori vai a fare una domanda adesso ai nostri figli chi più chi meno li ha grandi ti diceva papà ma tu sei vecchio vecchio avevo qualche anno in meno ma non è che mi pare di essere proprio chiuso nella mentalità quindi è cambiato il mondo e cambierà sempre di più e bisogna adeguarsi e bisogna aprirsi la mente ed essere un po' nei tempi non è facile io parlo per primo con i miei figli io rapporto sempre un po' di odio e amore perché noi siamo vecchi il ciclismo è cambiato secondo me in bene adesso l'atleta ha più strumenti di lavoro certo ha il preparatore ha il mental coach ha il direttore sportivo ha il procuratore il direttore sportivo il general manager è una roba che devi mettere in fila per parlare con un corridore tant'è che al giro d'italia le difficoltà Silvio ti ricordi a parte il covid con questa bolla mai visto corridori arrivano monta in bus e da lì la casa viaggiante va in albergo quindi vuol dire fanno la doccia fanno i massaggi mangiano noi a Miraglia in 5 tour de France 40 gradi accendevi l'aria condizionata il giorno dopo ti avviserai la bronchite ecco questi erano i tempi però ripeto ogni uno ogni periodo ha passato il suo periodo nel tuo aneddoto dell'albergo mi viene in mente però una domanda che è fuori da queste ma se incontravi uno che ti aveva fatto incavolare durante la tappa stessa nell'all nella hall di altre squadre ma guarda il ciclismo ha di bello che proprio il tema è questo l'amicizia io raramente ma proprio adesso ci penso ma non mi ricordo casi veramente di litigi clamorosi a parte qualche stupidaggine però tu capisci che gente come noi che ha fatto 100, 110, 120 gare all'anno quindi si mette insieme anche i giorni di viaggio e quant'altro stavi via 200 giorni la tua famiglia non ti vedeva messa in fila 200 giorni non mi ricordo casi estremi sì magari qualche battuta ma dopo di che rientrava tutto e ritornavi amico come prima a proposito di aneddoti vi chiedo un aneddoto particolare della vostra carriera che avete visto o che ha come protagonisti proprio voi due riguardo l'immagine degli amanti del ciclismo è sempre su quella famosa immagine coppie Bartali della borraccia però c'è un'immagine magari meno conosciuta che voi e forse ne avete vista più di una che in gruppo vi ha dato proprio il senso di fratellanza che sentite sicuramente ne avete tante c'è qualcuna che vi ha colpito in particolare ma quella famosa di cui hai parlato Coppie e Bartali intanto è una bottiglia però più che una borraccia perché quella è una bottiglia che Bartali passa a Coppie poi lì c'è sempre poi lì c'è sempre lì e Bartali che la passa a Coppie e che poi la getta via ora verrebbe squalificato Coppie con i nuovi regolamenti verrebbe squalificato ci sono le zone apposite ci sono le zone apposite poi era una bottiglia di vetro quindi insomma che lui gettò sull'Isoar stavano scalando l'Isoar al Tour de France però ma episodi ce ne sono tantissimi episodi ce ne sono tantissimi io non so un aneddoto non so sempre vissuto con Massimo quando ci si preparava per il Giro d'Italia per esempio allora i Colli Ugani non bastavano più ogni tanto si partiva e si andava verso l'altopiano di Asiago poi si facevano un paio di salite lunghe l'altopiano poi si scendeva poi si saliva adesso non mi ricordo più da dove da parte del Trentino vabbè per fare un paio di salite poi si tornava a casa e alle prime esperienze io non ero preparatissimo e sono rimasto cioè lui e qualche suo collega sono rimasto al vento capito un po' un po' così una giornata che sono arrivato a notte fonda perché loro invece andavano e io sono rimasto in giro tutto il giorno insomma ce ne sarebbero tanti da raccontare alcuni è meglio non raccontarli perché chiaramente non non è il caso però ecco insomma le esperienze vissute insieme sono sempre sempre molto piacevoli da ricordare io credo che anche per gli appassionati sia bello sentirle quando c'è la possibilità di farlo nella speranza che si possa tornare a farlo il prima possibile e che si esca in fretta e totalmente definitivamente da da questo momento particolarmente particolarmente complicato che stiamo attraversando beh allora qualche volta le ho date ma qualche volta le ho anche prese da Silvio eh attenzione perché quando lui ritornava dalle 6 giorni oppure stava facendo le 6 giorni per me era il periodo invernale quando io ero un po' in letargo no? ghiro, ghirotto capito? allora e lui quando cominciava a fare le ripetute questo qua andava minava e io cominciavo a mettermi lì un po' a ruota ma a un certo momento non ce la facevo e lui andava quindi ripeto qualche volta le ho date e qualche volta le ho ricevute però ritornando anche per un momento di generosità a parte i nostri episodi per dire che sono sempre belle cose c'è stata una volta in una tappa del Giro del Trentino quando io e il mio compagno di squadra Giancarlo Perini che correva in carrera con me siamo andati in fuga eravamo rimasti in tre e poi insomma c'era da fare una salita e discesa e arrivo e avevamo il gruppo sempre lì un minuto un minuto e quattro un minuto e quindici con l'altro e io a Pero ci ho detto cosa facciamo qua se vogliamo tentare uno si deve risparmiare e lui mi fa allora mi risparmio io no dai Giancarlo io ho fatto qualche finta no? no dai Giancarlo Pero dai tiro io per te no no però tu da tutto te ho detto che poi ci penso io infatti fu così tirò sempre lui sotto la salita io partì e vinsi la tappa e quello è stato un momento di generosità di Giancarlo che mi ha colpito tappa del giro di Puglia non aveva mai vinto una tappa Giancarlo io me lo partai in ZG Mobili con me allora da Giancarlo oggi vinci e comunque no stai con me insomma a un certo momento io stavo bene ho fatto un po' di battaglia siamo rimasti in pochi adesso vai parti parte lo riprendono riparte lo lasciano andare io di che poi ho chiuso tutti i buchi e lui vinse si arrivava albero bello anche una tappa molto interessante lui vinse e per me fu una soddisfazione perché uno che non ha mai vinto una gara a mettere così un favore che ti aveva fatto precedentemente favore che poi io ricambiai anche con una mancetta di la verità in modo proprio sincero ma questo fa parte da buon professionista perché una volta dai una volta prendi no bene bene e tra l'altro questi gesti in realtà adesso noi abbiamo chiesto a Massimo e Silvio però oggi esistono ancora magari questa situazione covid non lo mette non si può stare attenti con le borracce con le cose però può capitare ad esempio che qualche ammiraglia e che veda un altro corridore in difficoltà possa sì qualche episodio capita qualche episodio capita anche se anche se sono se sono comunque situazioni sempre più rare devo dire la verità a volte anche commentando le corse ci si sorprende nel vedere certi anche nei finali di gara dove insomma tatticamente delle cose abbastanza ingenue che normalmente da professionisti ne hai commentata una l'altro giorno Cima Grappa perché non ha seguito l'Adriatica Ionica Race la Stana nell'ultima salita cioè negli ultimi metri ha praticamente regalato diciamo in realtà l'ha meritata fortunato la vittoria però però sì l'atteggiamento dei due compagni di squadra ha agevolato sicuramente fortunato che non è solo fortunato ma è anche forte che ha vinto ha vinto poi ha vinto no non me l'ha raccontata così perché dopo a fine trappa Silvio com'è andata oggi tasi tasi chido organi l'aiga hai detto se corre andrì uno qualche altro di la verità sì però insomma non solo al direttore sportivo cosa abbia fatto la sera perché li ho visti ieri sul podio delle premiazioni tutti i moji moji no ma un altro aneddoto di come la solidarietà del gruppo in quel caso lui ha parlato del Giro di Puglia e di Giancarlo Perini che vinse forse l'unica corsa che ha vinto in carriera la professionista il Giro di Puglia invece è stata l'unica corsa a tappe che io da professionista ho vinto vinsi nel 97 e poi non la fecero più Giro di Puglia Giro di Puglia che insomma era era una corsa dulcis in fundo allora era finale di stagione io andai al Giro di Puglia tornai dai dal campionato del mondo su pista che si correva in Australia a Perth e appunto tornando mi chiamò il team manager della squadra che era Claudio Corti alla SECO io ero praticamente in scadenza di contratto avevo già firmato il contratto nuovo con la Polti per il 98 99 2000 e mi chiese se avevo voglia di andare alla Vuelta e lui disse ma quando parte la Vuelta io ero in macchina che stavo tornando da Malpensa verso Padova mi fa bisogna andare via domani vabbè vado a casa cambio la valigia e parto non avevo fatto quell'anno nel Giro d'Italia nel Tour de France perché in squadra c'erano dei problemi con il biondo quello con i capelli lunghi non è mai creati e vabbè era l'anno praticamente della rottura definitiva e gli faccio ma che squadra c'è alla Vuelta e mi faccio e poi c'è anche Mario come Mario mi faccio sì ma viene lì solo perché guarda è già 40 giorni che non si allena praticamente viene lì solo perché c'è con la Seco che aveva dei forti interessi in Spagna deve partire ma guarda credo che non riesca a finire nemmeno la prima tappa quindi torna no gli faccio io guarda Claudio io se c'è lui non vengo gli faccio e lui mi fa no ma guarda che si ritira subito sì sì ho detto ma guarda però è una questione in principio lui non mi ha voluto al tour che dovevo farlo io poi invece lui al giro vinse sei tappe quell'anno nel 97 pretese di fare anche il tour e io mi lasciarono mi lasciarono a casa dal tour adesso mi chiedi di venire alla Vuelta lui sta a casa però a maggior ragione cosa viene a fare io mi sono impuntato non andai alla Vuelta andai al Giro di Puglia e andammo con una squadra eravamo 4 o 5 corridori di cui uno Giovanni Fidanza praticamente aveva smesso di correre praticamente si portava la bicicletta all'arrivo altri due erano casa grande e donati che invece erano in area di maglia azzurra e quindi dovevano correre tutti risparmiati per io l'ultima tappa 4 tappe l'ultima tappa ero in testa della classifica ma senza squadra per controllare la corsa e l'ultima tappa tra l'altro a Martina Franca era anche quella più impegnativa abbastanza mossa come tappa e allora io non sapevo come fare qua come facciamo a controllare la corsa a cercare io la condizione c'era stavo bene avevo vinto una tappa anche e allora andai l'inverno successivo questa corsa era a settembre il giro di Puglia io a metà ottobre iniziavo con le 6 giorni e avevo tutto l'inverno già i contratti firmati e la 6 giorni di Erning in Danimarca era la prima e dovevo correre con Bjarne Ries e poi sempre con Ries avrei corso la 6 giorni di Monaco che era la più importante di tutto l'inverno e in più a Dortmund avrei corso che era tra Erning e Monaco a Dortmund avevi corso con Aldag e tutti e due correvano alla Telecom che era lì a giro di Puglia ed erano tutti là loro Ries aveva vinto da poco il Tour l'anno prima allora vado da loro gli faccio Bjarne guarda che c'è a fare sta cosa guarda noi Silvio non c'è un problema noi appena partiti ci mettiamo in testa a tirare anche perché abbiamo l'aereo rischiamo di perdere l'aereo che ci deve riportare perfetto vi faccio però non troppo forte perché insomma capito insomma tiriamo regolari ma insomma io vinsi il giro di Puglia quell'ultima tappa arrivai secondo ma questi qua tirarono tutto il giorno cioè la Deutsche Telekom che era una delle squadre più importanti tra l'altro dell'epoca otto corridori schierate e tutti si domandavano perché caspita tirano questi l'aereo e dopo poi vinciamo le sei giorni st'inverno vedrai che qualcosa ci inventeremo e così queste cose qua adesso fai fatica a vederle anzi non le vedi anche perché ti licenziano il giorno dopo capito era un ciclismo diciamo ancora più artigianale chiamiamolo così non so se è il termine corretto per far capire era un ciclismo ancora più diciamo dove queste cose potevano esserci e non c'è stato un dare avere come diceva Massio cioè il dare avere era che loro avevano l'interesse dell'aereo perché altrimenti lo perdevano l'inverno dopo avremmo corso qualche sei giorni insieme ed era già già si sapeva che si correva insieme e quindi gli ho detto ragazzi diamoci una mano a vicenda e così e poi non fecero più il giro di Puglia però e se non arrivavano in ritardo ogni volta ma questa cosa qua ritorna a quello che diceva prima Silvio di un fatto che i corridori adesso praticamente si ritrovano alla presentazione della squadra e poi non si vedono più cioè la squadra che fa un determinato programma l'altra ne fa un'altra l'altra ne fa un'altra in quelli casi là eravamo più o meno sempre gli stessi che partivano più o meno quindi ci si conosceva tutti cioè era anche normale a delle volte anche chiedersi un favore uno con l'altro che non sono favori proprio di scambio merce no proprio anche di tutti un po' anche dalle conoscenze all'amicizia ecco l'amicizia anche questo è vera questa cosa non è che sia inventata allora voi qualche nome anche Silvio adesso lo ha fatto in queste poi non so se figurano tra tra quelli che hanno queste caratteristiche dalla domanda che vi farò adesso adesso dovete escludere voi c'è qualche corridore che nella vostra carriera vi ha colpito per lealtà per generosità qualcuno l'avete già detto che proprio vi ha dato testimonianza di essere un corridore che andava al di là dell'essere campione dovete escludere voi due perché so che magari è no ma per generosità sai quando quando pratichi uno sport una disciplina come il ciclismo non è si puoi avere dei momenti di generosità aspetta che saluto Vittorino Gasparetto che salutando ciao Vittorino i momenti di generosità non è facile averne si puoi avere ci sono quelle situazioni in cui bene ti metti a disposizione dell'amico del compagno di squadra del capitano però non è bisogna avere un po' di egoismo per fare questo per fare lo sport in genere devi avere anche quella giusta dose di egoismo perché poi ci sono dei casi per esempio Massimo ha citato Giancarlo Perini Giancarlo Perini Massimo chi più di lui che ci ha praticamente vissuto una vita intera agonisticamente parlando insieme può confermarlo sicuramente Giancarlo Perini quando si parla di generosità è un corridore che ha speso la sua carriera al servizio degli altri sempre e comunque avendo perso anche quella capacità di cogliere le occasioni se mai ci fossero state per se stesso cioè l'unica volta che ha vinto se non avesse trovato Massimo che lo avesse spronato a tentare a provarci avrebbe finito la carriera professionistica senza vincere una corsa ed era ed era un signor corridore cioè non non un insomma un un pedalatore era un signor corridore perché poi alla fine per vestire la maglia azzurra come ha fatto Giancarlo Perini per per essere sempre selezionato nelle grandi squadre in cui ha corso per correre le grandi corse devi avere qualcosa perché insomma nella carriera all'epoca nell'economia di una di una squadra ognuno ha poi il proprio ruolo e quindi devi saperlo devi saperlo svolgere ecco sicuramente lui è uno degli esempi Giancarlo Perini io non ne ho conosciuti tantissimi altri devo dire la verità devo dire la verità che che avessero questo spirito proprio solo ed esclusivamente ci sono stati alcuni compagni di squadra di Giuseppe Saronni per esempio ecco alcuni capitani hanno sempre avuto hanno sempre avuto dei compagni di squadra quelli più vicini che erano votati alla causa e basta cioè pensavano solo al capitano per esempio con Saronni mi viene in mente Piovani mi viene in mente Ceruti Bombini abbiamo incontrato al Giro d'Italia Rudy Pevenage Rudy Pevenage è stato un corridore belga che ha vestito la maglia verde anche al Tour de France ma che però quando è passato alla Del Tongo con Saronni era votato alla causa di Giuseppe Saronni cioè ha messo da parte le sue ambizioni personali è un corridore che sapeva anche vincere per come può essere stato per Francesco Moser per esempio Masciarelli ecco un altro corridore che è sempre stato a disposizione del capitano come per Felice Gimondi lo è stato Sant'Ambrogio lo è stato il povero Sant'Ambrogio lo è stato Serge Parsani ora ora è anche difficile vedere quelle situazioni forse un esempio che mi viene in mente giusto perché ricordiamo anche un grande che ci ha lasciato troppo presto Michele Scarponi al Tour di Vincenzo Nibali sì certo Michele Scarponi il povero Michele certamente anche se Michele Scarponi vinceva anche le corse sì certo infatti dico insomma quindi sì era comunque un uomo che quando c'era bisogno era un come Massimo cioè Massimo è stato una spalla fenomenale per tutti i capitani con cui ha corso ma era uno che quando gli lasciavi la carta bianca ne approfitta sapeva approfittarne insomma grazie Giancarlo Perini Silvio lei li prendevi anche certo ti ricordi Benidorm Giancarlo Perini con Bugno il Duca di Benidorm è passato alla storia come il Duca di Benidorm perché il Mondiale con Bugno eh sì no fece un lavoro straordinario per Bugno che vinse il Mondiale dopo battendoci però ecco quello che voglio anche che vogliamo anche dire a coloro che ci stanno ascoltando è che comunque essere un professionista è un mestiere quindi ciascuno ha il proprio ruolo Gimondi ritorno al grande mio maestro si può dire era egoista in una maniera straordinaria ma lo diceva io io ho detto ero cattivo con i miei compagni di squadra però vincevo anche tante corse e portavo una casa alla pagnotta quindi per ritornare a dire che ognuno ha il suo ruolo i capitani come diceva Silvio sono tutti egoisti Merckx è proprio un esempio lui non lasciava niente a nessuno di fatto loro hanno come dire la capacità di vincere chi è il velocista chi è lo scalatore chi è il corridore della corsa a tappe hanno il talento la fortuna di essere leader e corridori come me meno Silvio perché poi lui si è dedicato alla pista e ha fatto dei numeri l'italiano che ha più vittorie Silvio nelle sei giorni ecco quindi capite che ti tornavano indietro quindi vuol dire è anche difficile rispondere alla tua domanda bisognerebbe inventarsi qualcosa che in realtà non è proprio così cioè siamo stati e sono tutti professionisti e hanno un ruolo ben specifico poi la generosità magari in termini semplici potrebbe essere anche questa caldo boia il tour de France non hai neanche un goccio d'acqua Silvio dammi un fiore d'acqua che mi bagna la bocca ecco se trovi quello che te la dà è un gesto simpatico di aiuto di umanità che poi tu te la ricordi e la trasmetti anche magari è capitato tra di voi non ricordo ma sì è capitato sì adesso non ricordo lo specifico ma sì 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 abbiamo dei calendari anche un po' differenti io e Silvio però sicuramente è capitato ecco stiamo andando verso la fine tra l'altro mi sono dimenticato di salutare anche chi ci segue da casa perché questo evento è in streaming e ci sono tanti anche che ci seguono da lì io adesso chiudo con due domande un po' su quella che è la questione appunto del ciclismo di oggi ecco il ciclismo italiano in questi ultimi anni poi ho sentito anche un po' di vostri di vostre riflessioni durante il Giro d'Italia e anche con gli altri compagni della squadra Radio Rai su quello che è il ciclismo italiano oggi quindi io lascerei a voi dire cosa ci dobbiamo aspettare dai corridori italiani che abbiamo in questo momento e che magari fanno fatica a figurare tra i grandi che ci sono nelle grandi corse a tappe abituati forse a Nibali andando indietro a Pantani anche se quest'anno Caruso ha fatto un Giro d'Italia straordinario e forse anche impensabile non per gli addetti ai lavori perché aveva fatto cose già ottime ma insomma cosa cosa ci dobbiamo aspettare e pensando anche a questo ragazzo Lorenzo Fortunato che ha vinto sullo Zoncolan un mese fa e poi ha vinto l'Adriatica Ionica Race vado io ma io meriterebbe un approfondimento lungo questo tema qua però insomma cerco di essere sintetico e secondo me c'è la necessità di dividerlo in due ambiti ovvero il ciclismo professionistico non abbiamo una squadra World Tour che è la massima categoria ormai da tanti anni troppi anni e questo è un danno per tutto il movimento perché molti giovani molti molti alcuni corridori di qualità sono obbligatoriamente costretti a correre informazioni che non sono italiane e spesso li vediamo sacrificati a cause diciamo così per cui andiamo a storcere un po' il naso pensiamo a Filippo Ganna che è stato sacrificato al Giro d'Italia ok ci stava pensiamo alla Milano Sanremo quando magari se avesse potuto correre con una maggiore attenzione avrebbe potuto con le qualità che si ritrova cercare un po' di gloria personale e poi c'è tutto quel ciclismo che c'è sotto il professionismo allora quando si parla di movimento italiano che soffre non è solo un ragionamento che riguarda i risultati che arrivano dal ciclismo professionistico che a volte arrivano molto spesso non arrivano ma sai insomma lì ti confronti con il meglio che esiste sulla terra in questo momento e quindi la concorrenza è sempre molto elevata ma quando si parla di movimento italiano che soffre io per esempio quando faccio certe riflessioni le faccio riferendomi anche a tutto ciò che è la stragrande maggioranza che sta sotto il movimento professionistico e il nostro movimento giovanile sta soffrendo moltissimo ora a causa anche delle difficoltà che sono conseguenti all'emergenza sanitaria da cui non siamo ancora usciti ma che si è poi trascinata a ruota una emergenza economica non indifferente e quindi il ciclismo vive anche il ciclismo giovanile vive di sponsorizzazioni di piccoli contributi anche dal piccolo negoziante il piccolo artigiano che hanno altri problemi a cui pensare e non più quello magari di poter aiutare la squadra del paese giovani che costretti a non andare a scuola a non socializzare a non poter gareggiare sai non è facile tenerli perché se tu non gli dai una motivazione fai presto anche a perderli e quindi c'è una situazione molto delicata molto complicata in atto alla quale dobbiamo un movimento che già soffriva prima dell'emergenza sanitaria e che ora si ritrova a soffrire ancora di più e il ciclismo è anche uno sport esigente dove ci vuole tanta passione perché le prendi cioè se non ti alleni non vai da nessuna parte ci sono molte altre discipline sportive dove insomma diventa molto più semplice praticarle il ciclismo ha anche un problema legato alla sicurezza dell'andare per le nostre strade le famiglie sono sempre più preoccupate quindi oltre all'emergenza economica c'è la preoccupazione delle famiglie nel affidare i propri figli e le proprie figlie ha le realtà che ci sono nei vari paesi perché poi la responsabilità o qualcuno ha un impianto che può essere un ciclodromo che può essere dove esiste un velodromo che può essere situazioni diverse dall'andare per la strada o altrimenti fai fatica a diciamo a fare quell'opera di reclutamento che anche se magari in qualche giovane ci dovesse essere così la volontà di provare però spesso la famiglia è contraria è molto più tranquilla a metterlo all'interno di un campo di calcio all'interno di una palestra cose di questo genere e quindi ci sono tante difficoltà per cui il ciclismo si trova in un momento particolarmente delicato quindi il movimento italiano sta da un lato a dei corridori che possono comunque regalarci delle soddisfazioni ci manca l'elemento al di là delle cose straordinarie che ha fatto Damiano Caruso al Giro d'Italia che possa garantire diciamo così di poter lottare per il successo in una grande corsa a tappe però abbiamo dei ragazzi interessanti nelle corse di un giorno che possono dire la loro Ulissi Moscon Bettiol stesso Ganna Filippo Ganna certamente insomma dimenticavo Filippo adesso quindi ci sono dei ragazzi molto interessanti per le corse a tappe ci manca riferimento ma dobbiamo allo stesso tempo fare attenzione molta attenzione a tutto ciò che c'è dietro non è un caso che il settore per esempio del fuoristrada che Massimo segue molto da vicino sia un settore in grande crescita io credo per due ragioni fondamentali la prima è perché probabilmente è molto più accattivante per un giovane saltare insomma andare piuttosto che mettersi là a girare magari i giovanissimi cosa fanno le nostre squadre di club trovano un tratto in una zona industriale e giri là come un criceto all'interno della zona industriale dopo che gli stabilimenti hanno chiuso molto più stimolante andare a fare due salti in un impianto di BMX andare a fare un po' di fuoristrada con una mountain bike e poi per un discorso di sicurezza perché c'è una percezione di maggiore sicurezza rispetto all'andarsi ad allenare sulle strade quando in realtà anche lì c'è un problema di sicurezza perché se fai un errore sei per terra anche con la bici da strada sei per terra se fai un errore ma un conto è che tu il pericolo lo corra conseguente ad un errore che commetti tu un conto è che tu corre al pericolo che qualcuno distratto perché ha il telefonino in mano ti prenda sotto ecco che le famiglie hanno molta più difficoltà ad accettare un compromesso di questo genere un compromesso dove metti sul tavolo la sicurezza dei tuoi figli ecco il ciclismo sta facendo i conti sempre più in modo sempre più drammatico con questa situazione e se non si lavora seriamente nel tentativo di invertire questo meccanismo rischiamo tra qualche anno di non avere più ai vertici chi poi alla fine con le sue imprese con i suoi risultati ci fa appassionare i ragazzini perché anche noi ci siamo appassionati andando a vedere i campioni di quando noi eravamo ragazzini ecco quindi questo è il circolo virtuoso che dobbiamo cercare non si interrompa e purtroppo ci sono tante ragioni e tanti motivi per cui c'è il rischio che questo circolo virtuoso non sia più così virtuoso e si possa interrompere beh l'analisi di Silvio cioè è profonda e interessante ma ce ne sarebbe ancora di più da dire perché ha toccato vari temi io mi aggancio su due cose il momento attuale del nostro professionismo secondo me insomma è un po' in sofferenza lasciamo parlare dei casi come dire Ganna che è quello un fuoriclasse un cronometrista vincerà magari glielo auguriamo la medaglia d'oro della cronometro eccetera eccetera dal punto di vista proprio dei risultati che fanno storia che appassiona noi che ci mettiamo davanti della televisione cioè Nibali è quello che ha lasciato il segno adesso in questo momento non ne vedo Caruso sì secondo però Caruso ormai nella parte finale si è scoperto capitano adesso è sempre stato un gregario per le classiche siamo un po' in sofferenza perché l'ultimo vero grande che ha vinto mi viene in mente tanta roba è stato Bettini classiche campionati del mondo olimpiadi ci saranno dei giovani magari anche sì però se facciamo dei nomi Pogacar sloveno 22 anni quello è un giovane che vince Roglic è già un po' come dire più maturo però ha cominciato a correre in bicicletta da pochi anni faceva i salti diciamo con gli sci quindi forse è quella la domanda magari per fare una fotografia che mi viene a dire al momento faccio fatica a individuare uno che veramente potrebbe mettersi là e fare la storia magari qualche giovane interessante arriverà vedremo ce li abbiamo vedremo anche alle olimpiadi adesso chi convocherà Cassani sia nel mondo della strada sia nel mondo del fuoristrada magari come ci piaceremo per quanto riguarda il discorso del settore giovanile ecco il tasto del fuoristrada e questi ragazzi che vanno a fare attività fuori dalla strada fuori dalla strada fuoristrada è forte è vivo ci sono tanti numeri ma perché c'è anche poca strada è sempre più pericoloso perché noi chi ha passione di bicicletta 15 20 30 anni fa quando andavamo sui colli ugani quando andiamo sui colli ugani le strade sono le stesse non è cambiato nulla ma le macchine sono triplicate chi è che in casa nostra minimo non ha due o tre macchine alla mia epoca magari dopo Silvio o qualche uno di noi una ma le strade sono le stesse quando si andava in Francia no in Francia in Belgio in Olanda quanti anni fa Silvio tanti anni fa fortunatamente o purtroppo noi andavamo sulle piste ciclabili non potevi andare sulla strada perché la polizia se ti vedeva ti diceva no ci sono le piste e noi le piste ciclabili dove ce le abbiamo mi fermo siamo arrivati ormai al termine siccome abbiamo questo weekend è il weekend dei campionati italiani e siamo prossimi anche al Tour de France per chiudere vi chiedo i favoriti dei campionati italiani secondo voi e anche il favorito del Tour che forse è un po' più difficile da prevedere però non so forse voi siete più afferrati avete i vostri cavalli no magari tenete di più a quelli del giro allora io dico Ulissi per il campionato italiano gliel'ho rubato e poi dico per il ecco ecco no tu ne devi dire un altro perché se no qua le pagelle cosa facciamo le ce le copiamo e invece per il Tour mi farebbe piacere e io lo pronostico Roglic perché l'anno scorso l'ha perso all'ultima tappa mi piacerebbe che quest'anno la portasse a casa anche se l'avversario Pogaccia era terribile tutte e due sloveni tra l'altro quindi ne hanno da allora per il campionato italiano non potendo dire Ulissi che era anche il mio il mio favorito che è anche il mio favorito dico Moscon Moscon per il Tour per il Tour allora io ho visto oggi è stata ufficializzata la squadra della Ineos ragazzi lì non dico che sono tutti a otto capitani ma c'erano almeno quattro che potrebbero fare i capitani in altre squadre perché Thomas che ha già vinto un Tour Gheganart che ha vinto il Giro d'Italia l'anno scorso Carapazze che ha vinto il Giro d'Italia nel 2019 e che ha da poco vinto il Giro di Svizzera e Ricciport che ha vinto il Delfinato che però lui si è già tirato fuori dicendo che non ha nessuna ambizione sarà a disposizione della squadra così è un po' più tranquillo quest'anno Ricciport perché comunque non ha ambizione ha vinto il Delfinato una settimana fa e poi hanno quattro Gregarietti Luke Rove che è uno che quando si mette in testa tira gli imposti la velocità tira per delle giornate Castrovieco che già al Giro d'Italia è andato fortissimo e farà anche il Tour Van Barle che è un altro che gli imposti il cruise control e va tutto il giorno e poi hanno un Gregario che chiamarlo Gregario uno che è stato campione del mondo uno che ha vinto una Sanremo come Kiatkoski ecco questa è la squadra dell'Aineos per loro stessa missione che questi sono abituati a vincerlo il Tour e non solo ultimamente vincono con una certa frequenza anche al Giro d'Italia è la squadra più forte che abbiano mai avuto al Tour de France dove si sono sempre presentati con il massimo il top che avevano a disposizione io credo che il vincitore del Tour venga fuori da quella squadra lì poi capire chi sarà è ancora più difficile trovarlo che in tutto il Tour perché sono quattro capitoli no beh Roglic chiaramente Pogacar il campione uscente sì per carità ce ne sono però l'Aineos hanno questa qualità qua non è facile ho capito però ti ha chiesto un nome no quattro uno dell'Aineos uno dell'Aineos poi sceglieranno loro secondo me va tra Thomas tra Thomas e Carapaz che non sono io però perché quello è il cognome di Garen Thomas Garen Thomas e Carapaz no perché abbiamo avuto durante il giro io e Silvio una roba cioè lui diceva che il giro lo vinceva Simon Ghez Simon Ghez vinceva il giro Silvio guarda che non lo vince Simon Ghez però tu avevi Jukkarti lo vince Jukkarti che era il mio cavallo cioè mio andà fuori a classifica subito è l'uso mi è arrivato sul podio mi è arrivato sul podio vale bene io vi ringrazio ma ringrazio soprattutto Massimo Ghirotto e Silvio Martinello per essere stati con noi vi invito naturalmente anche questa sera certamente è a prenotazione l'evento di questa sera non so quanti posti sono rimasti però c'è un bellissimo concerto state nei paraggi ecco questo vi consiglio se non siete riusciti a prenotarvi però ecco state con noi grazie per essere stati qui anche in un orario un po' particolare dove la gente di solito va a casa a mangiare quindi sono veramente degli appassionati questi e grazie naturalmente lascio la parola a un applauso e lascio la parola a Giovanni io mi associo ai ringraziamenti grazie grazie davvero della vostra partecipazione un piccolo un piccolo omaggio un piccolo ricordo grazie mille della nostra città e del nostro festival grazie buonasera vi ringrazio ancora a voi do appuntamento con una nota tecnica tra l'evento delle 21 che era previsto inizialmente trovate sul programma qui presso i giardini invece si terrà in Duomo quindi nella chiesa del Duomo vi aspetto alle ore 21 in Duomo e più tardi alle ore 22 con il concerto qui sul palco del festival biblico di Rovigo buonasera grazie a tutti Grazie.